Cari amici telespettatori, volevo commentare a malincuore il pareggio clamoroso in casa del Milan con l'Atalanta. A nulla ha servito il gol di vantaggio di Guain, il raddoppio di Buonaventura, un gol anche annullato al Milan e tutta una serie di situazioni anche sfortunate al Milan, perché bisogna dirlo, però la tenuta difensiva fa ancora in caprice quindi è tutto da rivedere ragazzi, purtroppo lo devo dire ci sono tanti problemi che dobbiamo risolvere in fretta perché il tempo è poco e come si suol dire quando il tempo è poco i risultati non arrivano, l'allenatore è sempre sotto processo. Non so quello che accadrà nelle prossime partite ma speriamo insomma che si possa migliorare, il gioco migliore possa arrivare e soprattutto si riesca a tenere certe partite. Detto questo vi do appuntamento al prossimo video, un abbraccio a tutti i tifosi rossi e neri e sempre comunque Forza Milan!